Arretto bene il piano antibivacco coordinato dalla prefettura di Agrigento per evitare l'invasione delle spiagge del litorale agrigentino. E' bene precisare che non tutti i 24 chilometri di costa Licatesi sono rimasti sgombri dalle tente ma il feedback generale può essere considerato senz'altro positivo. Ad operare sono stati gli agenti del comando di polizia municipale di piazza del Libia che malgrado l'esiguo numero hanno provato a garantire un servizio quanto più completo possibile e diverse associazioni di volontariato che hanno dato la loro adesione. Sull'esito della notte di Ferragosto abbiamo sentito il sindaco Angelo Cambiano il quale ci ha tenuto a ringraziare la polizia municipale e le associazioni che hanno partecipato al presidio. Abbiamo detto e continuiamo a ripetere che il bivacco in spiaggia, dice Cambiano, con tanto di gruppi elettrogeni, non è turismo. Il turismo a nostro avviso non si incrementa presentando le spiagge come una discarica ma rendendo appetibile il territorio. Rispetto ad altre spiagge del litorale provinciale, conclude il primo cittadino, penso che ci si possa ritenere soddisfatti. Come detto in apertura di servizio non è mancato qualche inconveniente ma modificare completamente in una notte la radicata usanza del campeggio sulle spiagge era pressoché impossibile. L'indirizzo dato dalla prefettura di Agrigento e da sua eccellenza il dottor Nicola Diomede è però lodevole da proseguire. Si è trattato di un primo importante passo per il rispetto del mare e delle spiagge. Allicata all'organizzazione generale andrà senz'altro migliorata ma è stato creato un precedente che può lasciare ben sperare.